Un cordiale saluto, ben trovati da Tu per Tu, la trasmissione realizzata in collaborazione con il Consiglio Provinciale di Trento. Siamo con Alex Marini, consigliere provinciale del Movimento 5 Stelle, ben arrivato nei nostri studi. Allora Marini, visto che lei è la prima volta che partecipa a questa trasmissione a Tu per Tu, subito un autoritratto della sua persona e del suo impegno. Salve a tutti e bentrovati. Io sono trentino, ci tengo a sottolinearlo perché è un accento lombardo che mi tradisce, un po' come tutti i giudicariesi. Sono trentino di padre, di madre e anche tutti i miei nonni sono trentini. Questo accento giudicariese, questo accento lombardo è perché abito al confine con la Valle Sabbia, luogo dove sono cresciuto, nel paese di Darzo, nel comune di Storo. Ho studiato ragioneria, mi sono laureato in sociologia, ho lavorato come ragioniere, come interprete di spagnolo e ho passato parecchi periodi di tempo all'estero, dove ho studiato in Spagna. Ho vissuto un periodo in Belgio, in Australia, ho lavorato come commerciale estero in Brasile, quindi un'esperienza lavorativa e accademica piuttosto complessa che magari è anche difficile riassumere in poche battute. Poi come è successo l'approccio con la politica? Come si è verificato? Sì, l'approccio con la politica è stato quasi casuale, nel 2011 io sono ritornato da un'esperienza in Nuova Zelanda dove ho gestito un ristorante e mi sono approcciato prima, diciamo, da un punto di vista civico, dove ho promosso un'iniziativa popolare in materia di democrazia diretta. Lì ho conosciuto Riccardo Fraccaro che successivamente è diventato deputato e successivamente ministro, ho lavorato per lui per cinque anni e quindi l'anno scorso, nell'estate scorsa, ho deciso di candidarmi e di provare a mettere a disposizione le esperienze di vita che ho vissuto e l'esperienza come collaboratore parlamentare e quindi, diciamo, mi sono impegnato in prima persona in politica. Dunque, veniamo nel vivo del programma e guardiamo questi primi mesi di attività di consigliere, siete, diciamo, entrati in carica novembre 2018, quindi sono stati anche dei mesi impegnativi, ecco, di cosa si è occupato in particolare? Sì, devo dire che l'attività è stata frenetica fin dal primo giorno, anche perché come forza politica Movimento 5 Stelle siamo in due consiglieri e quindi riuscire a coprire tutte le attività è particolarmente difficile, è un impegno molto intenso. 5 commissioni, la giunta delle elezioni, una commissione speciale per il maltempo, l'attività in consiglio regionale, quindi fin da subito è stata un'attività frenetica, diciamo, ho presentato quasi un centinaio di atti a mia prima firma, in una prima fase mi sono occupato delle questioni attinenti ai cambiamenti climatici, anche perché faccio parte della commissione speciale per il maltempo, che è stata costituita per far fronte ai danni causati dalla tempesta vaia e successivamente, oltre a raccogliere le diverse istanze provenienti dal territorio e che mi hanno portato ad affrontare diversi problemi, ho approfondito due temi in particolare, quello della difesa civica, delle figure di garanzia e quello della democrazia diretta. Sono temi questi che stanno in particolare a cuore al Movimento 5 Stelle, nel senso la trasparenza e la democrazia diretta? Sì, partiamo dal tema della difesa civica, che è direttamente connesso, perché la difesa civica è l'istituto rappresentato dal difensore civico che è deputato a tutelare, a promuovere i diritti fondamentali dei cittadini. A tal riguardo ho presentato innanzitutto un paio di ordini del giorno che sono stati approvati all'unanimità, alla relazione che è stata presentata a inizio 2019 dal difensore civico, in particolare il primo riguardava il completamento della pianta organica, perché attualmente è previsto un numero di dipendenti, di funzionari, che però in realtà non sono mai stati assegnati all'ufficio. In secondo luogo l'impegno è quello di diffondere maggiormente l'attività svolta a tutela della cittadinanza e quindi le relazioni annuali, le priorità stabilite dal difensore civico in questa relazione e la disponibilità che c'è da parte del difensore civico a difendere tutti i cittadini, compresi i cittadini che risiedono lontano dai centri urbani. Successivamente ho presentato anche un disegno di legge per rendere le procedure di nomina del difensore civico, del garante dei minori, del garante dei detenuti, più trasparenti e quindi delle procedure di selezione a evidenza pubblica, dove vengono organizzate delle audizioni sia per le figure in scadenza, sia per le candidature, per i soggetti che si candidano a ricoprire questa figura di garanzia. Queste figure di garanzia in realtà sono tre. Ci avviamo verso la conclusione, abbiamo pochissimo tempo a disposizione. Un'ultima domanda, si avvicina alla manovra di bilancio, quali sono secondo lei brevemente le sue priorità? Le priorità per il Trentino? Sì, è difficile in questo momento stabilire le priorità e stabilire quelle che saranno le iniziative del Movimento 5 Stelle, anche perché non esiste ancora un testo di legge. Abbiamo una sessione consigliare la settimana prossima dove all'ordine del giorno vi sono altri temi, però indubbiamente gli investimenti sulle persone, sulla qualità della vita, saranno quelli che saranno di nostra attenzione, di nostro interesse. Penso ad esempio le risorse che devono essere destinate alla sanità e all'istruzione, perché senza sanità e senza istruzione sarà difficile sviluppare delle politiche che valorizzino capitale umano e capitale sociale. Siamo in chiusura, grazie ad Alex Marini, consigliere provinciale del Movimento 5 Stelle. Per questa puntata di A2x2 è tutto, vi do appuntamento ad una prossima puntata. Arrivederci, arrivederci. Grazie a voi. Grazie.